Direttore, arriva questa sconfitta, io direi a testa altissima, perché secondo me oggi la squadra ha disputato una grande partita con carattere, anche qualche episodio non troppo fortunato in un certo senso. Noi usciamo a testa altissima perché penso che la squadra oggi debba avere ancora di più la consapevolezza di essere forti perché abbiamo giocato alla pari contro la prima della classe con una squadra costruita pienamente in estate per vincere e noi abbiamo fatto una grandissima partita. Poi gli episodi purtroppo non ci vanno bene tutte le settimane, non parliamo mai, però ogni settimana ce n'è almeno uno o due a nostro sfavore, non parliamo mai, però dopo un po' penso che la cosa debba un po' finire perché anche noi investiamo come gli altri, quindi non siamo venuti qui per fare un campionato, per far divertire gli altri, siamo qui in questo campionato perché vogliamo giocarcela, vorremmo giocarcela alla pari. Nonostante la sconfitta però le chiedo appunto se, è un po' mi ha già risposto, è una sconfitta che dà ulteriore fiducia per il proseguo del campionato, che dà ulteriore conferma della forza di questa squadra? Ma la prima cosa che ho detto ai ragazzi è che questa partita deve dargli ancora più la consapevolezza di quanto siamo forti, che ce la possiamo giocare contro tutte, come ho sempre detto si può vincere e perdere contro tutte le squadre che affrontiamo, però se lo facciamo è perché abbiamo le capacità per poterlo fare. Grazie